Ha dato fuoco alla cella che lo ospitava nel carcere Malaspina, l'uomo al quale la pena sarebbe scaduta nel 2016, detenuto ad alta sicurezza per reati legati agli stupefacenti con gravi difficoltà psicologiche senza un reale motivo, ha bruciato la sua cella chiudendo pure tutte le finestre. Un sovrintendente di polizia penitenziaria, con la collaborazione di altri tre colleghi, per evitare che la questione potesse avere conseguenze ancora più gravi, rientrando nella cella, ha provveduto a sfondare la porta del bagno dove il detenuto si era rinchiuso. Una volta tratto in salvo, il detenuto per i poliziotti penitenziari si è dovuto necessariamente ricorrere alle cure mediche, in quanto loro malgrado sono stati costretti ad inalare, sino al compimento delle operazioni di salvataggio, tutti i fumi tossici che l'incendio aveva procurato. E sulla condizione nella quale lavorano gli uomini della polizia penitenziaria intervenne Domenico Nicotra, segretario generale dell'OSAP, Organizzazione Autonoma Polizia Penitenziaria, scrive «È evidente che la detenzione nelle patrie galere dei detenuti necessitanti di cure psichiatriche previste in precedenza negli ospedali psichiatrici giudiziari e la cui chiusura definitiva dovrebbe essere fissata entro il 2014, porterà inevitabilmente a reiterarsi di simili criticità». Grazie. Grazie.